Chi di noi non si è mai emozionato almeno una volta nella vita durante un viaggio? Un viaggio contribuisce a dare nuovi stimoli, nuove emozioni ed è rappresentato da tutto ciò su cui si posa il nostro sguardo. Una nuova casa è un viaggio tutto da scoprire, pieno di emozioni, di entusiasmo e a volte di sacrifici. Non è una storia di mattoni, ma di desideri e di persone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il desiderio di una nuova casa per te e la tua famiglia. Non soltanto un posto in cui dormire, ma anche per sognare. Non soltanto un posto in cui passare del tempo, ma dove provare gioia e condividere la felicità con dentro le persone che ami. Una nuova casa, piena di luce, di nuovi colori e di nuovi odori. Una casa con nuovi spazi, con nuove emozioni. È una nuova avventura, è un nuovo inizio. Ed è un nuovo, bellissimo viaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.